Allora, brutte notizie per chi possiede uno smartphone più vecchio e soprattutto non aggiornato alle ultime versioni. Posso dire con fermezza che WhatsApp è l'app più utilizzata al mondo, tanto che sono sicuro che tu che stai guardando questo video sicuramente ce l'hai installata sul tuo dispositivo. Perché questo titolo così forte, quasi minaccioso? WhatsApp ha iniziato un nuovo lavoro per tutelare maggiormente la privacy degli utenti della piattaforma. L'aggiornamento in questione però richiederebbe un maggiore utilizzo delle risorse di sistema. In parole povere è un aggiornamento troppo potente per alcuni dispositivi, soprattutto per quelli più datati. Quindi a breve verrà rilasciato questo aggiornamento e da dicembre di quest'anno non saranno più idonei a utilizzare l'applicazione, quindi a utilizzare WhatsApp, tutti gli smartphone con sistema operativo Windows Phone. Inoltre, dal primo febbraio l'applicazione non sarà più disponibile per tutti i dispositivi Android che hanno una versione del sistema operativo aggiornata alla 2.3.7 o precedente. Neanche se hai un iPhone puoi stare tranquillo. Perché l'app diventerà obsoleta anche per tutti i dispositivi Apple che utilizzano la versione di iOS 7 o precedente. Ora già ti vedo che stai andando sulle impostazioni del tuo dispositivo a vedere che versione è. Se hai uno smartphone abbastanza recente, non hai nulla da temere. Perché appunto queste versioni che ti ho detto appartengono a telefoni che sono molto vecchi e che difficilmente starei utilizzando oggi. Però chissà, mai dire mai nella vita. Fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questa cosa, di questo aggiornamento che sta passando. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao